Sì, come faccio? Posso andare? Sì, prova, dai. Sì, scusa, capito. Non penso proprio che faccio. Qua devono spiegarti come si fa. Vediamo. Perché non c'è. Non c'è un pezzetto. Sì, un pezzetto. E comincio a dargli la fonte, verrà senza altro schiacciato. Ecco. È facilissimo. Riproviamo. Riproviamo. Non mi ascolta e l'ho distrutta a sé, in mano, così. Ma lo devi girare. Stai riprendendo? È per forza. Ho fatto i cavatelli. E appunso, i cavatelli non sono orecchiette. No, queste sono cavatelli. Pianchiamo. E l'orecchietta, ci ho spiegato un'altra volta, la fanno con... Ah, guarda. La strascinata, diciamo, non col dito, ma col pello. Vieni, diciamo. Se lo faccio più grosso, così che ti muoviamo delle dita. Ti do la forma a compiere. Niente, è un corso accelerato, no? No, un corso accelerato. No, un corso accelerato. Va bene. Ti chiedi. Grazie. Sei prima a mangiare. È vero. È vero. Quello, no, in quello non mi batte nessuno. Non devo fare il soccorso. Vi ho rovinato un po' la... No, non ci preoccupa. Grazie.